Sono un chirurgo vascolare e lavoro nell'ambito di questa patologia dal 1988. In questi anni la chirurgia vascolare ha avuto un enorme cambiamento e siamo passati da una terapia tradizionale chirurgica ad una terapia sempre più caratterizzata dalla minore invasività. Questo non significa che noi non trattiamo più pazienti per via chirurgica, ma che continuiamo ad affrontarli nel modo che riteniamo corretti, vuoi per via chirurgica, vuoi per via endovascolare. I chirurghi della mia età hanno avuto il grosso vantaggio di crescere in ambienti prettamente chirurgici per poi trasformarsi e vivere dall'inizio il cambiamento attraverso le tecniche endovascolari. Queste tecniche endovascolari ci hanno permesso pertanto di trattare con più tranquillità dei pazienti critici, critici perché rappresentavano elevato rischio operatorio, per motivi cardiologici, per motivi di insufficienza respiratoria, per vari motivi, ma soprattutto ci ha permesso di dare una possibilità a pazienti anziani e in questo momento stiamo vivendo sempre di più pazienti anziani, la possibilità di un trattamento sicuro ed efficace, sicuro in termini dell'immediatezza ed efficace anche nella durata. È ovvio che nella scelta tra un approccio chirurgico e un approccio endovascolare valuteremo i fattori di rischio del paziente, valuteremo pertanto l'età, le complicanze cardiologiche possibili, le complicanze di insufficienza respiratoria ed è ovvio anche che la ripresa ad una vita normale è garantita in termini molto più precoci attraverso un trattamento per via endovascolare rispetto ad una terapia di tipo chirurgico. La terapia endovascolare quindi non va a sostituire la terapia chirurgica, ma va ad integrare per una corretta indicazione, sia nel versante della terapia della patologia arteriosa, aneurismi aortici, toracodominali, carotidi, sia nella patologia del distretto venoso.